Nel Magrazzurri atteso domenica prossima 21 agosto dal debutto in Coppa Italia di promozione in casa della Caperanese per la cronaca il 24 e il 28 di questo stesso mese, le altre due giornate del primo turno della competizione, continuano intanto ad affluire i nuovi rinforzi estivi a disposizione a Luigi Camaiora e allora conosciamone il secondo lotto. Io sono Federico Neri, vengo dal Salla Zalolunense in cui ho militato nelle ultime stagioni, in passato ho giocato nel San Marco Avenza, ho fatto tutta la trafia delle giovanili nel Colle di Luni e arrivo qui con grosse aspettative perché qui vedo grande voglia di lavorare, un'ottima organizzazione, un gruppo composto da elementi molto validi e anche da uno staff molto preparato, quindi diciamo che non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura. Sono Francesco Bernieri, sono cresciuto nella Pontremolese fino ad arrivare a vincere il campionato di promozione. L'anno successivo, pronto a iniziare l'anno di eccellenza, per problemi di lavoro mi hanno trasferito a Milano. Quest'anno riuscendo ad avvicinarmi un po' con il lavoro ho ritrovato finalmente le mie categorie, l'ambiente qua al Magra è veramente ottimo, la squadra è forte, secondo me ci sono tutti i fattori per riuscire a fare bene. Sono Giulio, da passato a stagione ho giocato al Real Forte Querceta, ho giocato in passato nella San Marco e nel Fossone, quindi sono cresciuto lì e due anni fa ho anche avuto un'esperienza calcistica in America con una borsa di studi. Io stanno sono venuto qua e da quello che ho visto sembra una società seria e che punta molto sui giovani, quindi speriamo di fare del nostro meglio quest'anno.